Credo che una delle cose più belle che apprendiamo dalla scrittura sia che siamo tutti figli di Dio, tutte le culture, tutti i gruppi di credenti, tutte le razze, uomini e donne, chiunque siamo, siamo tutti la creazione di Dio, siamo tutti a immagine di Dio, tutti gli esseri umani sono la creazione di chi è Dio. Ma anche nella Chiesa, in maniera particolare, quando accettiamo Gesù come nostro Salvatore, diventiamo tutti figli di Dio in senso spirituale, non solo in senso fisico, ma anche spirituale. Se lo comprendiamo, potremmo anche capire che è proprio questa idea a portare un senso di unità nella Chiesa. Allora possiamo adottare alcune iniziative concrete nelle nostre Chiese quando realizziamo che tutti noi siamo insieme esseri umani in Cristo. Gesù è il nostro Salvatore ed è questo che ci unisce davvero. Le differenze non sono tutte così male. In qualche modo Gesù ama tutte queste differenze delle varie razze, delle diverse culture ed è questo che fa della famiglia umana, la famiglia di Dio. Perciò prima di tutto va forse compreso che l'unità è anche nella diversità e che Dio ama la diversità.